E' un'iniziativa nel segno della trasparenza. Inizia così il sindaco Francesco Mastromauro nell'illustrare il pieghevole che rendi conta l'azione amministrativa dei 51 mesi alla guida della città a partire dal 10 giugno del 2014, pieghevole che verrà inviato ai cittadini a spese del sindaco stesso per non gravare sulle casse del comune. Sono otto in totale le sezioni che compongono il pieghevole e che riassumono le principali realizzazioni di progetti in corso d'opera. Sociale, edilizia scolastica, opere pubbliche e manutenzioni, ambiente e gestione dei rifiuti, bilancio, turismo e cultura e sicurezza sono i capitoli in cui è divisa la pubblicazione. Viene descritto un lungo impegno, un lungo e fattivo impegno nei confronti della città. Un impegno fatto di lavoro quotidiano dalla mattina alle 6 alla notte fonda di tutti i giorni che spero abbiate apprezzato, fatto di rinuncia delle indennità a favore dei più bisognosi, fatto di impegno per la sicurezza della popolazione scolastica, fatto di impegno per la qualità della vita in città, con una raccolta differenziata che ha raggiunto il 75%, con l'abbattimento delle barriere architettoniche, con tante opere pubbliche, da via Leorsini Nord a via Nazario Sauro, al campo di calcio Castrum, a tante altre cose, ma soprattutto a una trasparenza enorme, a un gesto d'amore profondo nei confronti di Giuliano.